Buongiorno ragazzi, allora oggi mi hanno preso dentro, ero lì tranquillo a fare le mie cose, mi hanno tirato dentro, la regia mi ha tirato dentro per fare questo baccalà ai frutti di mare con aggiunta di quattro formaggi al profumo di timo, benissimo. Dai, di cosa facciamo? Oggi facciamo mandorle ai quattro formaggi, no, oggi facciamo brutti, e allora dei dolci nostri particolari, della nostra zona, facciamo brutti ma buoni, dolcetti. Veramente buonissimi e facilissimi, ok, ma veramente buoni, eh. Un uovo, 80 grammi di zucchero a velo e 80 grammi di mandorle, semplice, semplice. Vieni, dividi. Prima di tutto separiamo il bianco dal rosso. Cos'hai fatto? Niente, ci sono scivolato. Dai! Stavo dividendo il rosso dal bianco. Quindi, qua metti il rosso e qui metti il bianco. Va bene. A lui serve il bianco. Faccio come il Barberis. No, no. Io sono capace di fare come il Barberis. No, ma davvero, non devi fare entrare neanche un goccio di rosso stavolta, eh. Se no non viene, il rosso di qui e il bianco di là. Ragazzi, allora il bianco di qua? Sì, però... Aspetta, così, così, ragazzi. Guardi, anni, anni, anni. Aspetta, aspetta, lascia andare giù bene il bianco. Adesso lo facciamo andare giù. Sgolalo bene. Ma che roba, ragazzi. Metti il rosso qua. Momento che devo finire con il bianco. No, no, basta. Basta? Sì. E giù bene il bianco? Bianco giù tutto. Ok. Ragazzi. Basta, basta. Voilà. Abbiamo fatto la bava di lumaca. Ma che roba. Spregarlo, che già è uno solo. Se no, già ne vengono pochi, eh. Questa è una prova con uno, eh. Adesso, man mano che ti butto dentro lo zucchero a vino, si è tacciato. Come il vinavil. Sotto qui è come il vinavil. Ricordate la colla? Vinavil? Uguale. Va che roba. Potete anche adoperarlo come cemento pronto. Se avete qualche buchino in casa, dove avete fatto col chiodo, qualche buco. Guarda che roba. Guarda che roba. Allora. Ma che roba. Adesso diamo una tritata alle mandorle. Eh, perché gli diamo un bel colpettino che si impattacca per benino. Eh, prendi bene tutti i polpi che ce n'è poco. Ce n'è poco perché... Questa avanza. Guarda, facciamo colpi. Guarda, facciamo colpi, lo dici. Ragazzi, si è rotto del tutto. Allora adesso provo a farle a mano Come i grandi chef al coltello Vai al coltello Guardi bravo Piano Fai girare Gira proprio Delicattamente Ok via Vedete il movimento di polso Ma che roba Prendiamo proprio un cucchiaino così Aspetta eh Facciamo piccolini E lo metti giù così Ok Ma sono un po' piccoli eh Più grandino lo vuoi fare Eh si cosa mangi Eh bene mangi di più Non sprecarlo eh Stai sempre un po' distanziato l'uno dall'altro Lascia un bello gonfietto Non schiacciarlo giù Perfetto Li fai tutti così Ma che roba ragazzi Oh guarda che belli Eccoli qua Allora Adesso Fatto il pastroccio qui Allora il forno accendolo a 180 gradi Per 10 minuti 10-12 minuti 10-12 Dipende Adesso Aspetta Perché c'è il filo Stai attento eh Vai Inforniamo Sotto Sotto Sì sì appoglielo lì Così Sì Quindi Voilà Allora facciamo 10 minuti Poi vediamo Ma che profumo ragazzi Ah devono raffreddarsi Adesso vanno lasciati raffreddare completamente Ragazzi Come fa la Mirella Guarda che roba E la prossima lo faccio anch'io Non preoccupare Guarda che roba Ma perché le ha fatti lui Loro sono buoni Una roba che Una roba che Ti fa venire il sangue la testa Ma è un po' in là che mi siete Mi siedo anch'io C'è un po' di Il retrogusto Basta Vai un po' in là che mi siedo anch'io L'assaggio anch'io È buonissimo Sai che mi disturba qua? Mi fai siedere un bel Non c'è posto Non c'è posto Non c'è posto Non c'è posto L'ho occupato Vabbè allora finisci tu così dai Aspetta ne assaggio uno anch'io però Lascia stare che devi fa male No ragazzi È arrivata oh Ragazzi Che profumo di mandorla Buoni Guardi è proprio una stupidata Però sono buoni Veramente Ragazzi veramente Fateli perché hai visto Se ne ha fatti lui Ho fatto io Potete farli tu Con l'assistente tecnico qua Sentiamo Che roba Gli alveoli Come sono gli alveoli? Te le mandorle pezzettate Non le abbiamo mai sentire Allora Un abbraccione Un abbraccione Un abbraccione Un abbraccione Un abbraccione Evviva l'amore Brutti Ma buoni Ragazzi Molto buoni Dovevi? Ma che stai fiamma Che te lo portano via Ma che roba Lo vedi? Lo vedi? Non lo vedi più